buongiorno a tutti sono luigio naraku se preferite bentornati su one piece treasure cruise andiamo avanti con la nostra guida in questo episodio parleremo dei socket cosa sono i socket sono gli active power dei personaggi come si fa a darglieli andate nella schermata di power up vi scegliete un personaggio andiamo a scegliercene uno che proprio non ha socket potrei scegliere sanji già oppure vediamo un pochino chi mi vado a prendere ci siamo chiamato allora questa è la schermata che abbiamo già visto qual power up quale special adesso in cotton candy molto classico qua nella seconda secondo pulsante potete premere per i socket come si danno i socket a un personaggio ci sono due metodi o si dà in pasto un personaggio con lo stesso nome attenzione non lo stesso personaggio uno con lo stesso nome come vedete io potrei dargli anche chiamato ace chiamato caido yamato luffy il nuovo chi di amato naturalmente non fatelo però quello è il primo modo secondo modo libri generici dei socket glieli date avete un tot di percentuale che vi esco ognuno dei socket che andiamo a descrivere a breve poi abbiamo i libri specifici dei socket che danno assolutamente quel socket il power up vari che qua ne potete vedere diversi abbiamo robetto un po limitata di tempo a dietro che da anche esperienza calcolando che il mio yamato mi sa che è messo abbastanza male quel socket quanto a yam la mia yamato mi ama quanto hai se messo la schifo è solo ai socket giusti ma ne hai pochi quindi per cui andiamo nel modo più facile allora c'è un trucco per essersi quelli di avere tutti i socket e dare 50 libri calcolando che non si possono avere più di 5 socket in un'alternata statistica e quindi non possono uscire se date 50 libri vi escono 5 socket di ogni tipo e potete mettere quelli che volete a me però non mi interessa dare 50 libri gliene do una decina ne diamo una decina e casualmente usciranno alcuni dei 10 socket disponibili che adesso andiamo a analizzare i socket che volete del 99 per cento dei casi sono quelli della colonna di sinistra salvo rarissime eccezioni che possono essere magari black beard legend kart legend che vogliono altra roba qua siamo andati abbastanza male abbiamo però soltanto 3 socket interessanti nel momento in cui siete in questa schermata cliccate su socket che vi serve per equipaggiarlo in questo caso ci andata mediamente bene 3 su 10 non è proprio il massimo gliene diamo altri 10 so che sono importanti ma non per forza salvo in the game sono obbligato a dipende molto all'evento che fate sono alcuni eventi in cui senza avere almeno un po di socket di spare o bind non lo fate quell'evento quindi portarlo sopra schifo non fa ancora 3 su 10 ok accontentiamoci andiamo però adesso a vedere quali sono tutti i socket che vi vado a descrivere qua nella schermata una seconda lo fa vedere ok chi va a descrivere qua nella schermata accanto allora quali sono i socket che si possono prendere partendo anzi per farvelo vedere meglio penso che la cosa migliore sia dagli altri 10 anzi 8 così arriviamo al numero pari nella schermata di selezione dei socket così almeno non approfitto tanto va ammazzati quindi l'esperienza che non mi interessa oh è andato benissimo 6 su 8 prende quasi maxato a sto punto conviene dare i socket specifici comunque iniziando dall'alto a destra abbiamo damage reduction ridurre riduce i dati a prima cosa giusto in realtà neanche da qua mi conviene perché c'è da spiegare una cosa come funzioni socket dopo che li avete equipati non è che avranno effetto semplicemente se voi giocate questo personaggio i socket andate nel team andate in un qualsiasi team ecco ad esempio questo è il team che sto usando per farmare il pick up a il pirate king adventure qua sotto vedete il livello dei vostri socket che è la somma dei socket dei vostri personaggi più poi la somma dei socket del vostro alleato calcolando che spesso vi potrebbe convenire prendere alleato copia del vostro aumentati di 5 questo numero in base al numero che esce finale in questo caso quindi un numero che va da 0 a 25 o 20 se non erro 24 non c'è più di 24 no no ok che va fino a 24 avete vari livelli come funziona abbiamo il damage reduction questo ridurrà i danni che subisce il vostro team a livello 1 li riduce del 3 per cento a 2 del 5 a 3 del 10 carino non necessario può aiutarvi quando siete un attimino in bilico special col down redaction invece abbastanza importante cercate di avere un team che lo porta al 20 sempre riduce i turni di carica delle special inizio run 1 al primo livello 2 al secondo livello utile per andare avanti se non avete tutti i pg maxati di special per qualche motivo qua naturalmente come potete vedere escluso l'ultimo in realtà è come se fosse tutto maxato perché prendendo un luffi amico che io tutto 5 mi arriva tutto quanto al massimale tranne l'earing abbiamo poi e sono i più importanti a mio avviso l'anti dispare l'anti bind hanno lo stesso funzionamento a livello 1 riducono di un turno il debuff quando lo beccate a livello 2 di due turni a livello 3 di tre turni a volte obbligatorio averli perché nel caso di capitani che non vi annullano quello status tra swap o altro a volte vi infliggono 8 turni 7 turni 6 turni che quindi hanno bisogno di un anti bind o anti disperto e potete poi essere dispellati completamente dalla special quindi cercate di dare priorità a questi due di portarli subito a 15 abbiamo poi lato heal che permette di recuperare hp alla fine del turno è l'unico di cui ci sono ben cinque livelli se non sbaglio a livello 1 recuperate 100 hp a turno a livello 2 200 a livello 3 300 a livello 4 500 e a livello 5 che si raggiunge con 24 punti 1000 hp utile ma non necessario infatti come vedete io lo tengo basso perché tanto si tende sempre a chiudere in un turno ogni stage se dura più di un turno molto spesso rischiate la morto altro troppi debuff quindi è utile non utile fino a un certo punto escluso lo stall iniziale non è detto che abbia un senso però dipende anche dal team che usate ci possono essere team che hanno bisogno di stallo o determinati eventi in cui dovete installare può aiutare per 1000 hp a turno in più abbiamo poi rcv boost secondo me inutile l'unico altro che è a livello 5 in realtà avrete a livello 1 100 hp extra livello 2 200 hp extra livello 3 300 hp extra lo 4 500 hp extra livello 5 1000 hp extra quando prendete un rcv totalmente inutile potete fregarvene altamente questo invece può essere utile slot rate ci sono alcuni capitani che lo usano ci può essere il caso che nel momento in cui vi costruite un team che sapete che quello è il team che usate quindi che quello è il top team di quel personaggio anche se è difficile definire il top team perché andate a modificarlo però se sapete che con un personaggio siete obbligati a giocare qualche altro personaggio per farlo girare bene potreste cercare di buildarvi per arrivare a 15 di slot rate nel corso dei personaggi vuol dire che 3 personaggi tra uno dei 5 slot che hanno dovranno utilizzare slot rate possibilmente capitano compreso aumenta la possibilità di ottenere le odd positive di 1.3 1.5 1.7 ci sono alcuni capitani per cui è importantissimo carrot legend è importante che ce l'abbia ad esempio quindi carrot legend magari rinunciate a mettere la tua heal rinunciate a mettere il damage reduction e gli mettete questo slot sono di solito i due che ha più senso rinunciare perché la riduzione delle special catene e bind sempre meglio averlo andiamo avanti con i due tristi perché questi sinceramente sono talmente situazionali che non ha senso giocarli è il poison resistance riduce i danni del veleno del 5 del 50 del 100% ci sono talmente pochi stage che fanno caso al veleno che è difficile usarlo sia mai che in futuro non esco uno stage obbligatorio in quel caso andiamo a modificarci un po' i personaggi però sinceramente mi metto uno che annulla il veleno direttamente piuttosto che uno che vada a ridurre i danni quindi meh il map damage resistance è sempre sperato servisse a qualcosa non serve a molto ci sono alcuni eventi in cui subite dei danni ambientali anche qua a livello 1 50% a livello 2 li annulla ma non è un qualcosa su cui basarvi troppo infine l'ultimo che può essere interessante però a mio avviso meh è il resistance quello che hanno anche i boss in pratica se state per morire vi farà rimanere a un punto vita il 5 10 o 20% di possibilità non è il massimo molto situazionale però alcuni ho visto che lo mettono per avere come mettere il 5 eva su dock una cazzata però quell'unica volta che funziona funziona quindi ragazzi questa era la guida dei socket i migliori sono quelli che vedete qua nel team ad esempio servono molto assolutamente sì bisogna però saperli utilizzare al meglio perché non è assolutamente scontato il loro utilizzo e soprattutto bisogna saperli buildare in base all'evento però se mettete questi qua a 15 15 15 15 20 e il vostro capitano li ha tutti a 5 siete già messi bene per aggiungere non fare altri video che possono essere molto più corti a questo video dei socket aggiungo anche la spiegazione dei support chi sono i support? i support sono personaggi in realtà quasi ogni personaggio del gioco può essere support facciamo un esempio allora prima vi prendo un pg che non è nato per essere support nami la nostra cara nami top tier incredibile impressionante ad esempio io ce l'ho support 1 questo simbolino in alto indica che il pg è un support quando voi pullate un pg salvo che non siete in determinati banner non avrete questo pulsantino attivato infatti se andiamo da kidluffy di cui ne ho pullato una sola copia vedete che il pulsantino è loccato come si fa a sbloccare il pulsantino? vi faccio vedere tranquillamente prendiamoci un pg di cui ho molte copie prendiamo shanks kid shanks allora aprite il personaggio andate qua nella schermatina del support che è il terzo pulsante in basso a destra ci cliccate sopra e gli dovete dare o copie dello stesso pg che aumenteranno il support di uno garantito oppure questi oggetti prendiamo il presupposto che quello di livello più basso ci mette una vita ad aumentare una vita quindi in questo caso noi diamo a shanks 5 copie questa ve le andrò a spiegare quando parleremo dei limit break nel prossimo video il caro shanks si mangia 5 copie questo vuol dire che aumenterà di 5 la special sicuramente avrà un boost nel level limit break che andremo a vedere poi e tutto quanto qua il livello qua aumenta i poteri speciali qua a special e per ultima cosa naturalmente perché non può essere prima se vuoi fare shanks dai max a special grande esatto va a aumentare il support al 100% una volta quindi che avrete come poi i socket e tutto quanto come vedete le copie fanno tutto se hai una copia di un pg aumenti tutto quanto con la copia una volta che avrete aumentato il vostro personaggio di support potrete provare a metterlo per metterli support andate nel team calcolate che i personaggi support occupano il costo e in questo caso andiamo a prendere questo team che non mi ricordo per cos'era facciamo che io voglio mettere a zoro free to play un support qua avete il tastino e premiamo accanto qua vi mostrerà tutti i support disponibili ma attenzione guardate bene non c'è shanks che abbiamo appena portato a support perché non c'è shanks? perché ogni support ha delle regole su chi può essere messo ora qua purtroppo è la versione giapponese quindi capite molto ma ad esempio questo sanji con un ottimo support tra l'altro se cliccate qua si capisce in realtà un pochino che lui può essere supportato soltanto a monkey di luffy e roro no a zoro questo vuol dire che purtroppo non è che ah tanto non gli ho messo ancora la stellina non è che avete un support buonissimo e lo potete giocare dove volete no sti cavoli in base al vostro team dovrete avere dei support specifici e non finisce qua non finisce qua perché è naturale quasi ogni pg del gioco può essere support ma ma ci sono pg che sono nati unicamente come support ne parleremo nel video delle batch ma ci sono personaggi quali sono presenti nei banner support e si usano unicamente come support quindi non li utilizzerete mai come altro ad esempio questa vivi che avete visto anche nel video di treasure map li riconoscete perché hanno delle special praticamente livello 1 questo è già un segno che non è un pg fatto per combattere questa è una vivi support questa è una vivi che pullate solo nei banner support e ha la particolarità di avere degli effetti support enormi in cui si mettono dentro tre effetti cioè questa qua nella battaglia finale riduce il damage reduction di questo tipologia che ha il nemico di due turni e per un turno gli metto un debuff a rossi, blu e verdi dal 5 al 10% per ricevere più danni e vi ricarica gli hp capite che i pg support sono fatti apposta ce ne sono diversi ci sono alcuni support importanti se volete sapere di alcuni support importanti dove sono? sono poi sempre pg secondari non pg principali però dove sono? che ne ho uno di support no, ne ho un paio di molto buoni limitati perché la multi da 30 la faccio sempre nel banner dov'è? però eccoli qua questi sono tanta roba loro sono tanta roba come support riducono il damage reduction avversario hanno altri boost sono abbastanza importanti oggi fatto che vi potenziano ulteriormente loro sono buoni naturalmente nel banner quando li pullate avete qua già a livello 1 poi vanno potenziati con le cose che avete visto prima di solito un support buono lo diventa da livello 3 quindi salvo che non vi sia proprio la base 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 del suo potere tipo nami l'avete visto a livello 1 perché la usavo insieme a un altro support ancora per togliermi in totale 3 di paralisi in uno stage che mi infliggeva solo 3 turni di paralisi e quindi mi serve a solo quello quindi ragazzi per i support il trucco è molto semplice o pullate nei loro banner o cercate dei sostituti a cosa servono di principio i support quando il nemico vi fa eccessivi debuff il vostro team non riesce a gestire tutto quanto ma non sono debuff di 7 turni sono debuff di 1 o 2 turni sono magari debuff di 7 turni che però così portate a 5 e per aggiustare un attimino il cleanse del team per aggiustarlo perché non tutti i team messi in un certo modo possono gestire tutti quanti i buff e debuff avversari coi support ci andate un po' vicino tutto questo questo video finisce qua ci vediamo al prossimo in cui parleremo del limit break e del level limit break arrivederci